allora ragazzi la barca è sulle ruote ed è girata pronta per la pitturazione ora prossimamente appena il meteo me lo consentirà perché è ancora un po ballerino cioè è un po strano questo meteo porta temporali e invece ogni giorno sta portando sole appena farà capire qualcosa io verrò a pitturarla comunque bisogna soltanto fare quest'ultima quest'ultimo procedimento che pitturarla a un'ultima cosa a qualche affezionato magari che potrebbe darmi una mano io dallo specchio di pop fino fino alla chiglia qua ho misurato 47 centimetri quindi in caso volessi trovare in futuro un motore per questa barca vorrei sapere da qualche più qualcuno più esperto cosa ci vorrebbe se un gambo lungo un gambo corto dallo specchio di pop fino a qua ho misurato 47 centimetri ok ragazzi alla prossima e grazie